Allora Paolo, settimana densa come al solito di avvenimenti, quella che ormai si avvia la conclusione, parliamo di che cosa? Di baseball? Ma no, ma non di baseball, parliamo di Inter! Ma che Inter? Cosa ti interessa dell'Inter? Allora, qualche puntata fa, ti eri lamentato che io non stessi più parlando di Inter, no? Se la regia, peraltro, ci può fare un favore, può rimandarci in onda proprio quel brevissimo spezzone, vediamo! Comunque, da quando l'Inter vince non ne parli più, mi fa piacere! Da quando l'Inter vince non ne parli più! Da quando l'Inter vince non ne parli più! Vabbè, ma è inutile che stai a parlare di Inter, non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato! Allora, innanzitutto spiegami quando è che l'Inter ha cominciato a vincere! Non abbiamo pareggiato, abbiamo pareggiato, no? Abbiamo perso, quindi non ti preoccupare! Per l'Inter un pareggio è una vittoria! Certo, certo! Poi con un allenatore così, che abbiamo in panchina, guarda! Per una volta che avevate vinto, ma è più inzecchiato! Guarda, parliamo di altro, non farmi inalberare, perché già l'altra sera ho sofferto, ho sofferto! Bello il gol di Palazzo! E comunque fino al pareggio stavano vincendo! Esatto! E anche questo è un dato che bisogna dire! Sono stati i cambi che ha fatto Mazzarri, che ci hanno fatto pareggiare! Se Guarin combina una frittata simile! Ma no, si può! In prospettiva futura metti in campo ancora un Zanetti che ha 40 anni! Tanto di chapeau per la sua carriera! E di cappello, non so! International! Ma però non so! Cioè, con i giovani che ha in panchina, non so! Poi leva Hernane e si mette Guarin! Ma pensa te che testa che ha questo qua! Questo c'ha... ma lascia per me! Quindi a fine stagione lo esoneriamo? Non parliamo più! Senz'altro! Senz'altro! Altrimenti mi devo anche da Inter Channel! Vai tranquillo! Vai tranquillo! Qua perde a buona mente! Guarda, rimango interista perché ormai hai 50 anni che sono interista! Però non ti preoccupare che io non la guardo più perché è impossibile guardarla! Forse era meglio che avessimo parlato di baseball già la Inter! Eh certo! Dopo 31 giornate non gli ha dato ancora un gioco! È un allenatore questo! È un rigore che gliel'ha andato! Ma vai tu a allenarla l'Inter! Allora siamo a posto! I rigori vanno e vengano! Basta che li viano alla Juve e alle altre squadre! Ah, adesso cominciamo una polemica! Eccola!